Ciao e benvenuto in questo nuovo video Oggi ti parliamo di un pellegrinaggio in Giappone, il Kumano Kodo L'abbiamo percorso svariate volte in diversi periodi dell'anno quindi possiamo darti davvero un quadro completo del percorso e di tutto ciò che devi sapere per non trovarti impreparato Siamo Vincenzo e Deborah e abbiamo fondato A Piedi per il Mondo siamo esperti camminatori e travel planner e organizziamo viaggi a piedi in Italia e nel mondo in Giappone organizziamo sempre almeno due viaggi di gruppo all'anno e tantissime partenze individuali trovi tutte le informazioni nel link in descrizione Cos'è il Kumano Kodo? Il Kumano Kodo è il pellegrinaggio più antico e popolare del Giappone A differenza del Cammino di Santiago, che di certo conoscerai il Kumano Kodo non può essere percorso senza una buona organizzazione Le strutture sono poche, quindi è necessario prenotare con largo anticipo Non si tratta di un cammino che improvvisi, ma di un'esperienza che calcoli e pianifichi cercando di lasciare al caso il meno possibile Ma torniamo alla descrizione del cammino Il Kumano Kodo si sviluppa lungo l'estremità più a sud della penisola di Ki in una regione sacra che in passato prendeva proprio il nome di Kumano Si tratta di una rete di sentieri che da più direzioni convergono in uno dei più importanti santuari del Giappone il Kumano Ongu Taisha Questo, insieme ai vicini Kumano Ayatama Taisha e Kumano Naci Taisha rappresentano i tre grandi santuari di Kumano mete di questo importante pellegrinaggio Il Kumano Kodo si compone di quattro vie di pellegrinaggio da fare esclusivamente a piedi infatti bici e cavallo non sono permessi 1. Koechi, la via tra le montagne è un percorso molto isolato e privo di adeguate infrastrutture Oechi, la via della costa, era in passato la maggiore via del pellegrinaggio per Kumano oggi però non è possibile percorrerla a causa di una segnaletica incompleta di mancanza di mappe e indicazioni in inglese e mancanza di infrastrutture Isegi, la via orientale, percorre la costa orientale della penisola di Ki Infine Nakaechi, considerata la via imperiale per Kumano è il Kumano Kodo per antonomasia utilizzata dagli antichi imperatori del Giappone per raggiungere la terra sacra e ad oggi la più frequentata, forte di infrastrutture ben consolidate ed efficienti ha inizio a Tanabe, presso il santuario di Takijirioji e proseguendo verso est raggiunge il gran santuario di Kumano Ongo Taisha da qui un ulteriore tratto conduce al secondo gran santuario di Kumano in Naci Taisha Nakaechi, Ruth il Nakaechi ha inizio a Tanabe parte dal tempio di Takijirioji, confine dell'antico regno di Kumano da qui il pellegrinaggio si muove verso est immergendosi nel cuore della penisola di Ki e tra le sacre montagne fino a raggiungere il grande santuario di Kumano Ongo Taisha dopo aver pagato il tributo al santuario Kumano Ongo Taisha i pellegrini viaggiavano in barca lungo il Kumano Gava River fino a Kumano Ayatama Taisha il secondo dei tre grandi santuari una visita poi al Kumano Naci Taisha completava il pellegrinaggio ancora oggi è così si raggiunge infatti il santuario di Ayatama Taisha tramite barca e il santuario di Naci Taisha per mezzo di un ulteriore tratto a piedi il pellegrinaggio di Nakaechi è tra tutti e quello più attrezzato e popolato con strutture ricettive dove per notare è un'ottima segnaletica i più allenati possono affrontarlo in due tappe rispettivamente di 17 e 21 km ma il mio consiglio è di farlo in tre giorni di cammino variante Naci San il Kumano Kodo può ritenersi concluso ogni volta che si giunge a piedi a Kumano Ongo Taisha da qui è possibile proseguire fino al bellissimo tempio di Naci San raggiungibile in altri due giorni di cammino la difficoltà è elevata soprattutto per via dell'ultima tappa che lunga attualmente 20 km conta quasi 2500 metri di slivello totale segnaletica il Kumano Kodo è dotato di un'ottima segnaletica consiste in una serie di paletti di legno alti circa un metro e con scritte in inglese e giapponese su ciascun paletto è inciso il simbolo del cammino con la scritta Kumano Kodo un numero di emergenza da chiamare in caso di difficoltà e un numero sequenziale corrispondente alla propria posizione sul percorso i paletti sono infatti posizionati a 500 metri esatti l'uno dall'altro quindi avremo il numero 1 all'inizio del percorso e il numero 75 al Kumano Ongo Taisha per rendere tutto ancora più semplice trovate il numero dei paletti sulla mappa del percorso così da sapere sempre dove vi trovate Difficoltà il Kumano Kodo non è un percorso adatto a tutti è classificabile come escursionistico nella scala di difficoltà escursionistica le principali difficoltà del tracciato sono legate ai dislivelli alle condizioni climatiche e alla ridotta quantità di ore di luce per lo meno in un certo periodo dell'anno ma andiamo a vedere più nel dettaglio ciascun elemento Dislivelli sul Kumano Kodo i dislivelli sono abbastanza impegnativi e richiedono una buona preparazione fisica e una certa esperienza di trekking in montagna nelle prime due tappe e quindi nei primi 38 km da Takichiri Oji a Kumano Ongo Taisha ci sono circa 4500 metri di dislivello totale Ore di luce a seconda del periodo in cui si decide di partire ci saranno più o meno ore di luce a disposizione se per esempio si parte ad aprile o ad ottobre periodi che noi personalmente adoriamo il sole tramonta intorno alle 5 di sera e questo significa che si deve camminare rispettando dei tempi prestabiliti così da non trovarsi nel bosco quando care il sole Condizioni climatiche le condizioni climatiche a cui bisogna fare più attenzione sono il caldo estivo e l'umidità che ne consegue ti assicuro che camminare con l'umidità raddoppia la fatica devi combattere con insetti e zanzare e in presenza di rocce devi anche fare molta attenzione a non scivolare e a farti male certo anche le piogge sono un grandissimo ostacolo al cammino e rappresentano un elemento di pericolo e difficoltà molto alto Tipo di terreno Il Kumano Kodo segue per il 90% sentieri nei boschi si cammina spesso su radici e rocce pericolosissime se umide soprattutto se il sentiero va in discesa Percorso isolato Il Kumano Kodo non è molto frequentato e questo significa che se succede qualcosa per esempio cadiamo e ci facciamo male non è detto che qualcuno ci veda e ci soccorra il percorso infatti passa quasi sempre in mezzo al bosco lontano da centri abitati o strade quello che possiamo fare in questi casi è contattare il numero di emergenza 119 e comunicare la posizione approssimativa in cui ci si trova in ogni caso la struttura nella quale si è prenotato per la notte si insospettirà della nostra assenza e si attiverà per capire cosa è successo Se si comincia la tappa si deve finire Trattandosi di un percorso isolato non ci sono punti di ristoro lungo la tappa e neppure paesi questo significa che non ci si può permettere di essere tanto stanchi da non riuscire ad arrivare alla fine prima di partire bisogna farsi un check up studiare la tappa e capire se si è o meno in grado di affrontare una simile sfida Zaino da 7-8 kg a tutto questo bisogna aggiungere uno zaino di almeno 7-8 kg è eventualmente possibile soffrire di un servizio di trasporto bagaglio ma solo se prenotato con largo anticipo Sul Kumano Kodo bisogna fare attenzione a tre animali in particolare tutti piccoli il serpente Mamushi lungo tra i 45 e gli 80 cm è una delle specie di serpenti più velenose del Giappone sono animali prevalentemente notturni e preferiscono le basse temperature millepiedi mucade di grandi dimensioni neri e con le zampe gialle il loro morso è molto doloroso e infine c'è il calabrone gigante anche la loro puntura è molto dolorosa nella stagione autunnale diventano decisamente più aggressivi quindi assolutamente da evitare quando partire? il Kumano Kodo è percorribile tutto l'anno anche se ci sono periodi decisamente migliori degli altri le temperature sono alte d'estate con massime intorno ai 32 gradi nel mese di agosto e basse in inverno con minime intorno ai 0 gradi nel mese di gennaio aprile e novembre hanno temperature perfette per camminare tra i 7 e i 20 gradi già a maggio ottobre per esempio le temperature si alzano attestandosi tra i 12 e 24 gradi parliamo ora delle precipitazioni queste sono scarse nei mesi invernali con meno di 100 mm al mese e infatti in queste zone nevica di rado i mesi più piovosi sono quindi giugno e luglio con oltre 400 mm di pioggia e settembre sono circa 350 mm gli altri mesi siamo sui 200 ml al mese naturalmente anche le ore di luce incidono sulla scelta o meno di un determinato periodo se a giugno il sole sorge alle 5 del mattino e tramonta alle 19 a decembre questo sorge alle 7 e tramonta alle 5 di sera considerando tutti questi elementi il periodo migliore per percorrere il Kumano Kodo è la primavera e l'autunno in particolare i mesi di aprile, ottobre e novembre dove dormire? sul Kumano Kodo si dorme in strutture tradizionali come Ryokan e Minshuku intervallati da qualche guest house sempre in stile giapponese non aspettarti il letto all'occidentale in queste strutture dormirai infatti su tatami e futon il tatami è la tipica pavimentazione giapponese ed è costituita da pannelli di legno rivestiti da un intreccio di paglia non si deve mai calpestare con le scarpe o con le ciabatte ma solo con le calze o a piedi nudi sopra il tatami viene posizionato il futon il tipico materasso giapponese questo non è altro che un materassino sottile sormontato da un piumone nonostante per molti sembri scomodo ti assicuro che ci dormirei davvero molto bene solitamente il futon viene posizionato all'interno degli armadi o al lato della stanza ripiegato su se stesso questo per poter utilizzare la stanza anche per altre cose prima di andare a dormire dovrai quindi posizionare il futon sul tatami e la mattina ripiegarlo e riposizionarlo nel suo luogo originario all'interno della stanza troverai anche uno yukata da poter indossare a cena e negli spazi comuni si tratta di un abito informale una sorta di vestaglia di cotone da utilizzare tradizionalmente dopo il bagno è molto comoda e leggera ed è l'occasione giusta per entrare ancora più in sintonia con la cultura giapponese alcune strutture non hanno il bagno in camera ma bagni in comune tradizionali in particolare c'è una stanza con lavandini e water e una stanza da bagno dedicata alla pulizia personale divisa tra uomini e donne quest'ultima è davvero molto particolare è abbastanza grande per accogliere diverse persone ha un'anticamera con dei cesti per riporre i propri abiti e lo yukata e la stanza da bagno vera e propria nella quale si entra nudi non esistono separe ma una serie di postazioni con un doccino e un seggionino dove sedersi spesso in questa stanza si trova anche una grande vasca di acqua calda intorno ai 40 gradi nella quale si può entrare dopo essersi fatti la doccia alcune possono accogliere anche 5-6 persone alla volta mi raccomando bisogna essere puliti prima di entrare nella vasca perché altre persone si immergeranno in quella stessa acqua oltre alla vasca di acqua calda alcune strutture hanno al loro interno un onsen si tratta di una vasca contenente acqua termale con temperature tra i 40 e i 45 gradi ci troviamo infatti in zone ricche di acqua termale yunumine onsen ad esempio a pochi chilometri da Kumano Ongu è per esempio la cittadina termale più antica del Giappone la cui storia risale addirittura a 1800 anni fa dove mangiare? sul Kumano Kodo si mangia nella struttura nella quale si pernotta non ci sono bar o ristoranti né lungo la tappa né nei fine tappa ad esclusione di Tanabe che è comunque una cittadina e Kumano Ongu che è un piccolo paese se non si vuole mangiare in struttura l'alternativa è portarsi da mangiare per 2-3 giorni personalmente non la reputo una scelta sensata cenare e fare colazioni in questi luoghi permette infatti di assaggiare specialità locali che altrimenti non conosceresti ma anche di immergersi nella cultura popolare gli orari per mangiare sono davvero molto ferrei e non si transige la colazione è prevista per le 6 del mattino e la cena per le 18-18.30 ed è questo anche uno dei motivi per cui il cammino va percorso rispettando una certa tempistica Dual Pilgrim è credenziale del Kumano Kodo c'è un legame tra il cammino di Santiago e il Kumano Kodo il Kumano Kodo si è da qualche anno gemellato con il cammino di Santiago e insieme hanno dato vita al Dual Pilgrim un certificato di avvenuto pellegrinaggio che si ottene solo percorrendo entrambi i cammini il motivo di questo gemellaggio sta nel fatto che entrambi i cammini sono stati riconosciuti patrimonio unesco questa è la credenziale per il Kumano Kodo sul lato opposto trovi quella del cammino di Santiago su entrambi i lati è presente una sezione per i dati personali una per l'ultimo timbro e un'altra per tutti i timbri del cammino lungo il Kumano Kodo trovi delle casette di legno con all'interno un timbro con inchiostro rosso si richiede di farli tutti o quasi per attestare il proprio passaggio in quel punto una volta arrivati a Kumano Ongutaisha potrai fare l'ultimo timbro quello dorato e consegnare la credenziale all'ufficio turistico se hai già fatto il cammino di Santiago puoi mostrare la credenziale tembrata e richiedere il Dual Pilgrim ti faranno una foto che verrà pubblicata sul loro sito donata una spilletta con il simbolo di entrambi i cammini e rilasciata una pergamena con il tuo nome in più se ottieni questo importante riconoscimento presso il santuario di Kumano Ongutaisha potrai richiedere una speciale cerimonia taiko per Dual Pilgrim durante questa è possibile suonare il sacro tamburo taiko se ancora non l'hai fatto ti consiglio di guardare il video che abbiamo girato durante uno dei nostri viaggi lungo il Kumano Kodo quindi se ti è stato utile questo video lasciaci un bel like e iscriviti al nostro canale YouTube ciao